Uno dei capolavori dell'architettura moderna è come è noto il Guggenheim Museum di Franklin Wright a New York. Architettura tutta temporalizzata, interamente di percorso, un itinerario che continua quello della strada, prolungando la strada in un percorso a forma di elicoidale espansa. Questo è per ciò che riguarda l'esterno, ma l'esterno esprime i comportamenti che si svolgono all'interno, e cioè questi visitatori che camminano attraverso questa galleria continua, avendo di fronte a loro un duplice spettacolo. Quello delle opere d'arte esposte sui muri è quello della gente che li guarda. Grazie a tutti.